un altro medikit portiamolo via questo medikit, me lo faccio? fa niente se ho due AR è una cazzo di sfida difficilissima raga non ho il pump ora stiamo tenendo bene per la sfida, il problema è che siamo per entrare in un punto dove non ci dobbiamo riuscire a raggiungere il lago lascia perdere tutto e puntiamo i flopper ce la posso fare ce la posso fare raga grazie seno grazie ragazzi non vi sto salutando raga non vi sto salutando solo le mani andiamo per evitare il dolore alle dita a questo punto si anche se bianco prendiamo il pompa top 10 avranno già pescato ovviamente un altro medikit io lo prendo via la R potenziare il pompa farlo diventare verde potenzialo nuovamente farlo diventare blu a questo punto mi permette di tenere il medikit giocata pericolosa ma intelligente se adesso riesco a risistemarmi da un pompa bianco siamo passati a un singolo blu non male ragazzi devo cercare di non distruggere completamente gli alberi io voglio prendere quel drop no c'è un altro dietro sabbia che è molto interessante vai 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 ho detto che era pericoloso quello dietro sabbia è molto interessante da andare a prendere è anche un bel pericolo però mi garantirebbe un'arma leggendaria cosa che sarebbe perfetta per la rainbow per la challenge che stiamo facendo via il medikit dentro al flopper 300 metri rischiosa 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 parecchio è follia andare al contrario 48 secondi per 200 metri siamo la vediamo in questo momento la vediamo 36 secondi e poi si corre di prepotenza 25 secondi cazzo c'era un'arma blu qua peccato c'è anche un track bianco non mi interessa 15 secondi 70 metri e follia ma è l'unico modo per provarci perfetto allora scildini via via scildone andiamo 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 gente che mi stai seguendo non si sa bene perché non posso guardare un secondo un attimo solo caro grazie ale grazie ale secondo mese pro can't stop it non mi è chiaro dove si è andato il tipo ora mi è molto più chiaro molto interessante questa rainbow challenge stiamo conducendo questo è andro è perfetto come cazzo può essere ancora vivo figa andiamo è bianchissimo andre laseralo è strabianco laseralo laseralo vabbè alex alex andre idem ok via i pesci non posso tenerli ok tengo il pump blu no non ha senso il cecchino no attenzione per la rainbow è una rainbow perfetta ragazzi siamo in chiusura con una rainbow perfetta abbiamo tutti i colori bellissima come la stiamo chiudendo è una bellissima rainbow non rischi il ban no perché non banano purtroppo per teaming come non banano per teaming se tu gli spari io entro eh è una rainbow entrata perfettamente ragazzi spettacolo spettacolo bisogna capire dov'è l'unico avversario ok è a nord 15 è a nord 15 no a nord 15 c'è alex easy dove è quell'altro ti vedo ma non so dov'è è partito un colpo sulla luna spara nei cespugli spara nei cespugli secondo me nei due cespugli ci vedo ma Stiamo scherzando? Lasciamelo! Paragli! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Bravo! Grazie! 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 Un secondo! E vince la Rainbow Challenge! Grazie! Woohoo!